Cercasi nuovi corsisti. È questo l'appello lanciato dall'ente nazionale Sordi di Piacenza, che sta cercando di far partire il nuovo corso formativo della lingua dei segni. Servono infatti almeno 13 persone interessate per dare il via all'iniziativa. Attualmente invece si è arrivate all'incirca alla metà del numero richiesto. Abbiamo fatto l'esperienza negli anni scorsi di fare il corso comunque con meno persone. È molto difficoltoso, non tanto per la ricaduta economica, che in qualche modo si può compensare e provare a coprire, ma proprio per l'inutilità in sé, nel fatto che poi molti comunque fanno il primo livello, non fanno il secondo. Quindi sono anche esperienze che vanno perse e vorremmo riuscire a creare invece un gruppo di persone a Piacenza che conoscono la realtà dei sordi, la cultura dei sordi e che quindi favoriscano una reale integrazione. L'ente Piacentino è formato da un centinaio circa di soci e svolge diverse attività per le persone prive di udito. Un film proiettato in biblioteca, io ci penso mettete i sottotitoli, loro no, ma mica perché sono cattivi, cioè semplicemente non gli viene in mente e questo è valido un po' sotto tutti i punti di vista. E quindi chiaramente se venissero tante persone a fare i corsi, conoscerebbero non solo la lingua dei segni, ma le persone sorde e quindi le loro difficoltà, le loro capacità, cioè è veramente un mondo molto ricco, molto bello. Cioè chi lo fa è contento. Per chi fosse interessato si può contattare il numero 348 955 2309 o l'indirizzo email piacenza-ens.it. Grazie. Grazie.